Buonasera, cominciamo con leggere il testo proposto. Pertanto, mentre James osserva con occhio acutissimo le perfide abitudini di noi europei, mentre rivendica costantemente l'innocenza assoluta dello sguardo americano, mentre descrive gli spettri inglesi e le delittuose rovine romane, sembra dimenticare il massacro della nazione indiana che si è compiuto, mentre poteva essere addirittura un testimone diretto. Questa inconsapevole interna divisione regala al suo genio la possibilità di guardare dove gli altri non vedono nulla. Fratello di un grande e famoso psicologo, ha da lui ricevuto gli strumenti investigativi che gli consentono di superare il decadentismo, la dimensione post-romantica, il realismo francese trionfante in quegli anni. Mentre ascolta l'infanzia, mentre ignora le duchesse per ascoltare le governanti, non segue mode o poetiche. Così il suo genio speciale lo conduce perfino a capire che la guerra di cui è fra i pochi a comprendere l'immensa tragicità potrà dirsi grande solo in quanto spasserà via tutto. E ai fantasmi e ai bambini, del resto, che James guarda davvero, perché sente il valore dell'inconossibilità. Nelle sue opere si viaggia tra remote sembianze archeologiche e nuovi dilemmi della psiche. Nessuno come lui entra nel segreto della modernità, perché ha lo sguardo di chi non teme di vedere davvero. E tutti i paradigmi di un grande culturale letteraria non sono nulla per lui, mentre ascolta un contadino dell'agro romano o una duchessa della campagna gallese. Poi sarà un indagatore dell'incubo, perché scoprirà il paradigma che tutto condiziona. L'apparenza, infatti, ha del tutto sostituito ogni possibile realtà. I brandelli del passato sono avvolti nel silenzio, ma agiscono. Sanno colpire chi li disturba, chi li colloca nel salotto buono, chiamato così, con tetra ironia. E dando un'occhiata riusciamo a vedere che cosa sapeva Mesi che serve alla lezione e quello che ha la preziosa prefazione del grande americanista Sergio Perosa. Che l'ultimo dei valeri è all'interno di questa preziosa antologia, su cui dopo farò una riflessione. che Adina, che un po' citerò, è una Sellerio, il giro di vite dei tanti tradotti vale la pena che sia quello di Fausta Cialente. E poi succede qualche cosa di stranissimo. Uno così fine, uno così gigante, uno così poco attento alla superficie del successo, era sempre isolato, stava sempre per i fatti suoi, finisse in edicola. Perché? Perché questo è una versione più che decente, non ci sono delle cose che non vadano davvero bene, c'è qualche toscanismo qua e là, però questo qui, che è un libro da edicola, è il giro di vite. È uno dei libri più belli di James. Poi, non contento di finire lì, finisse anche qui. E anche questa riduzione, su questo, che era il volume numero 7, di una preziosa casa fumettistica che faceva solo l'horror, è niente meno che una versione del giro di vite a fumetti. Non è finito. Questo invece sono stato io a volerlo. Volevo che Sergio Toppi, disegnatore che ho sempre amato alla follia, illustrasse l'inquilino fantasma. E così è avvenuto nelle Inaudi ragazzi. Poi c'è gli innocenti, o suspense, giro di vite, regia di Jack Clayton, uno dei pochi film che io non sia riuscito propriamente a vedere dalla paura che fa. Infine c'è perfino il giro di vite e opera lirica, andata anche al comunale. Benjamin Britten, 1951. La critica sono 30-40 pagine, nella versione americana sono tre volumi, per forza. Quindi la scelta è così sorridente. Comunque la nostra collega Giovanna Mocchi ha scritto un bellissimo testo sulle cose cattive. Questo master è una biografia molto accurata e si legge con tanto piacere. Anche Wilson ha lavorato da par suo. Come unico amico aveva Redmond Goss della settimana scorsa, quindi è un cerchio che si chiude. Ovviamente, attraverso anche il fatto che William Jens è stato davvero un grande psicologo, che il pragmatismo va studiato, va apprezzato, e poi come pedagogisti abbiamo in particolare un pezzettino che riguarda solo noi, perché il più valido esponente di questa scuola in ambito pedagogico, cioè Warburn, fu quello che fece i programmi dell'esercito americano per la scuola elementare, che durarono fino a quando la Chiesa, stanca di vedere tutta sta bella gente, ordinò che nel 1955 i maestri cattolici cambiassero i programmi, facendo i programmi a loro misura. Però è vero che tra il 1948 e il 1955 abbiamo avuto dei programmi gemmassiani nelle nostre scuole. Detto questo, letta la traccia per la lezione, guardata la dimensione, spirito, ombra, casucce inglesi, del disegno che ho tentato di fare, viene in mente una cosa, che non riesci a catturarlo davvero. Se ne scappa in tutte le direzioni possibili, vedevo sorridendo questo libretto scolastico americano da adesso. In copertina ci ha messo Montgomery Clip, che è quello di piazza Washington. Dentro c'è un eserciziario di quelli che mi fanno morire, il protagonista è alla terza riga, portalo quindi con l'ausilio di patina 33 ad essere il protagonista del breve testo, tutta una roba. Però, 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 però cosa? Che lo puoi fare solo con un gigante come James. Gigante molto triste. Prima di tutto l'omosessualità, vissuta ovviamente malissimo, quando con il mio caro amico, oltre che allievo, Franco Grillini, facevamo al Cassero il festival rovesciato, perché gli uomini sociali sono rovesciati, quindi noi abbiamo fatto non Alice nel Paese di Meraviglia, ma Meraviglia nel Paese delle Alici. Abbiamo festeggiato alla rovescio anche le fiabe di Andersen e così via. Lui non siamo riusciti a mettercelo, perché l'ambiguità, la sapienza, l'idea che sia terrificantemente sempre da un'altra parte è cosa che ci fa paura. Mi sono però guadagnato, con tanti anni di devozione, il primo tema su James l'ho fatto in seconda media, e quindi è lunghissimo, qualche cosa che sa di davvero sorprendente. ed è un qualche cosa che ci consente un'impresa che non si fa mai, purtroppo non si fa mai. C'è quella di andare come degli spettri, e qui ce ne tanti, vicino a lui che scrive e rubargli l'informazione. Mi ci sono voluti 50 anni, però lo faccio. Non c'è il minimo dubbio che questo furto sia possibile. fa paura a pensarlo, perché il tutto sono tre righe, e ti viene il tormentoso sospetto che tutte le tre righe di James siano così. Ed è uno degli scrittori tra otto e novecento che ha la produzione più ampia e immaginabile. Ha scritto sempre, ha pubblicato sempre, è ritornato su ciò che aveva scritto, ha ripetuto ciò che aveva trovato. Sempre, altra lezione, ci fa compagnia con questa unica amicizia, Edmund Goss, in un momento in cui le cose per persone di questo tipo erano solo sofferenza. Perché? Perché sono gli anni del processo vittorico di una storia regina contro Oscar Wilde, omosessuale. Terrificante vicenda che portò, purtroppo, per chi come me, visceralmente lo ammira, alla scomparsa prematura sia del grande, geniale scrittore, sia dell'uomo Wilde. c'è un ritratto di Toulouse-Lautrec che lo mostra apposta. Toulouse-Lautrec era quasi un nano, sapeva la sofferenza che si ha nella diversità e quindi gli ha fatto un ritratto quando era per morire, con tutte le vicissitudini ben visibili sul volto. Gli diamo quindi la parola e siamo in questa edizione di Che cosa sapeva Mesi. Dobbiamo fare molta attenzione perché il pezzettino in cui lo si coglie, e adesso vi faccio vedere come agiva, come lavorava, e anche lui sarebbe costetto a dire è vero, mi hai preso mentre utilizzavo uno dei miei stupefacenti artifici che ci porta molto lontano. Allora, brevemente, perché un minimo di cose poi ne rediremo degli altri. Che cos'è? è una bambina di cui sappiamo vagamente l'età, oscilla fra i 9 e i 13 anni secondo me. Questa bambina ha un babbo e una mamma che non si sopportano più e non sono in Italia, sono in Inghilterra, divorziano. La bambina comincia, tanto è vero che Sergio per ora il grande anglista nostro collè che ha fatto questo libro ha dovuto fare una carta topografica perché la bambina si sposta un po' verso la mamma, un po' verso il babbo incontra altri due che sono l'amante prossimo sposo della mamma e l'amante prossima sposa del padre. Però questa bambina è una bambina alla dimensione sua totalmente e cioè riesce anche a scoprire che non solo stanno divorziando ma sono da pronti delle amanti tanto verso ovest quanto verso est e siccome calibra l'età presumibili nove e presumibili tredici perché non ce li dice la bambina riesce a colloquiare e in almeno due casi a sedurre amici amanti amici degli amici dal lato mamma e poi dal lato babbo babbo e non sperate che vi faccia alcun regalo perché tanto l'ultima riga è questa addio ripetè addio e mesi seguì la signora Vicks presero il battello che stava già per scalpare e spinte al di là del baratro si trovarono sul ponte così esauste spaventate che metà del viaggio se ne andò per far calmare il tumulto dei loro sentimenti questo scomparve lentamente ma non del tutto infine in mezzo alla manica circondate da mare calmo la signora Vicks ebbe il coraggio di tornare sull'argomento io non mi sono voltata tu l'hai fatto io sì lui non c'era disse mesi non era al balcone mesi esitò un momento poi disse di nuovo no non c'era la signora Vicks rimase anche lei in silenzio per qualche istante è andato da lei disse infine oh lo so ripose la bambina la signora Vicks lo osservò con la coda dell'occhio quel che sapeva mesi quello che mesi sapeva non avrebbe mai finito di meravigliarla fine del film fine del libro fine di tutto cosa ne sapremo ho provato a sfidarlo perché c'era una possibilità avevo conosciuto la grande Rossellina Archint mi aveva detto dammi quello che ti pare perché me lo dai allora io ho scritto dacci questo veleno fiabe fumetti feieton bambine in omaggio a mesi perché dove vanno i maschi non ne hai avuti ma questo è un libro dove io di maschi non parlo ci sono anche ovviamente strati di dolore perché entrava a fare così nel mio studio lasciando le colleghe sterefatte che diceva ciao amore ciao amore al suo vecchio maestro ma chi era era un aderente di terza posizione che vuol dire io non sto né col ciarpame repubblicano che fa schifo né con il movimento sociale che fa schifo anche lui io sono un fascista tipino è morta in un assalto ad H laurezia la sezione romana dell'MSI bruciata con dentro i custodi quindi le bambine sono proprio mesi e lui ha fatto un monumento alla costruzione ideologica psicologica storica delle bambine mesi finisce come comincia voi non state capendo ma in convenio a me non me ne interessa niente questo l'infame morale vediamo invece come lavora e i brividi diventano ancora più grossi perché adesso lo stiamo vedendo al lavoro sarai affidata a questa signora disse la mamma e a voi signora Wix soggiunse impazientemente rivolta a quella figura e dando alla bambina una spinta nella quale mesi sentì un esempio di forza di carattere ad uso della signora Wix la signora Wix la prese con sé e mesi sentì il giorno dopo che non l'avrebbe mai più lasciata andare da prima venendo così dopo la signorina Overmore l'aveva fatto l'impressione di qualcosa di terribile ma aveva un che nella voce che dopo appena un'ora toccò la bambina in un posto dove non era stata toccata mai cosa fosse questo mesi lo capì più tardi anche se mai avrebbe saputo dirlo con precisione era una cosa che vennero chiaramente in luce dopo pochi giorni di conversazione la signora Wix le disse subito la cosa più importante anche lei aveva avuto una bambina morta di colpo per un investimento di una carrozza non aveva mai avuto assolutamente altro al mondo e il dolore lei aveva interamente spezzato il cuore fu tacito fra loro che il cuore della signora Wix tanto era spezzato quello che mesi sentì fu che la signora Wix era stata appassionatamente e dolorosamente una madre un qualcosa che la signorina Overmore non era e che sua madre cosa strana e sconcertante era ancora meno avvenne così che in un tempo straordinariamente breve era fu assorbita dall'immagine della piccola morta di Clara Matilda stravolta e schiacciata dalla più crudele delle carrozze ad una traversa di Arrow Road più di quanto non lo fosse mai stata dalla famosa famiglia resa vivida da uno dei sette e ci fermiamo qua una tragedia accaduta a quella che dovrebbe occuparsi di lei ma che cos'è questa riga è uno che ha perso la testa o ci vuole mandare un messaggio è una carogna per dirla tutta perché il massaggio me lo dà ma ci ho messo 40 anni a decifrare cosa fosse perché qui la nota non ce l'ho lo ridico poi vi faccio scoprire come lavora questo immenso gigante avvene così che in un tempo straordinariamente breve ella fu assorbita dall'immagine della piccola morta di Clara Matilde stravolta e schiacciata dalla più crudele delle carrozze ad una traversa di Arrow Road più di quanto non lo fosse mai stata dalla famosa famiglia resa vivida da uno dei sette è una filastrocca inglese ricavata dal sommo poeta romantico Watford dal parlato popolare è ritmata come spesso le filastroche 7 7 1 7 7 1 7 7 bisogna quindi munirsi di cosienza e pazienza e andare a cercare Worsford nel percorso si è fortunati è una delle tre poesie inglesi tradotte da Giovanni Pascoli allora adesso sappiamo cosa sapeva Messi di che cosa si era in quel momento impadronite è terribile anche la filastrocca è intitolato siamo sette vidi una cara contadinella che aveva otto anni come mi disse bionda ricciuta bella assai bella con le due grandi pupille fisse presso il cancello stava ed io figlia quanti tra bimbi siete e bimbette chiesi con atto di meraviglia ella rispose quanti noi sette e dove sono di se ti pare le disse ed ella mi disse ma noi siamo sette due sono in mare altri due sono nella città altri due sono nel campo santo il fratellino la sorellina in quella casa che c'è d'accanto io sto con mamma loro vicina tu dici oh bimba due sono in mare altri due sono nella città e siete sette questo mi pare un conto bimba che proprio non va sette tra bimbe diceva intanto e maschi siamo due sono qui presso in un cantuccio del camposanto del camposanto sotto il cipresso ma tu ti muovi ti corri è vero tu quanti russi hai fame hai sete se quei due sono nel cimitero cara bambina cinque voi siete verde verde rispose il loro posto lo può vedere lì se le preme da casa un dieci passi discosto stanno vicini dormono insieme là vado a far la calza e spesso vado a far l'orlo delle pezzuole mi siede in terra sotto il cipresso con loro e loro conto le fole e spesso quando la sera è bella e quando è l'aria dolce serena io la mi porto la mia scodella e la con loro fa la mia cena prima a morire fu Nina a letto tra se gemendo stette di più poi la guarita dio benedetto ed ecco allora che ella partì nel camposanto così fu messa e quando l'erba non era molle io col mio nino vicino ad essa mi divertivo sulle sue tolle poi quando cade la neve e bello sarebbe stato correre tanto dove partire pure il fratello ecco che ora le sta d'accanto e quanti dunque siete ora voi se qui du sono nel paradiso sette rispose sette siamo noi meravigliandosi tutta nel viso ma sono morti quei due ma sono lassù sono anime anime elette che ripoteva sempre d'un tono no sette siamo noi siamo sette e allora lo si immagina questo giovin signore che è a suo agio a New York a Firenze a Roma a Parigi sulla corta azzurra che deve mettere una poesia del sommo poeta romantico inglese Wolf di rincalzo a un pezzettino assolutamente minimo avvenne così che in un tempo straordinariamente breve e la fu assorbita dalla immagine della piccola morta di Clara Matilda travolta schiacciata dalla più crudele delle carrozze a una traversa di Arrow Road più di quanto non lo fosse mai stata dalla famosa famiglia resa vivida da uno dei sette intanto capiamo che non è che ci ami molto noi lettori visto che conosci pure Wolf ama pure il romanticismo ma che con una riga all'interno di un testo che fra l'altro viene pubblicato in 19 puntate tutto o quasi tutto usiva allora sui grandi quotidiani nelle pagine letterali che noi come dicono in Toscano si scappi verso i romantici inglesi non è cosa che possiamo ritenere come sempre possibile e che noi a lui gli interessiamo noi lettori tanto quanto gli amanti del lato sinistro o le amanti del lato destro interessano ad Esi perché Mesi non sembra volere interessarsi ai dialoganti che pretendono dialogo a quelli che le regalano denaro a quelli che le regalano vestiti a quelli che le regalano confidenza perché come giustamente ha fatto il bravissimo Sergio Perosa per capire i rapporti di Mesi con tutto questo strano orizzonte ci vuole una carta geografica che lui ha disegnato per noi perché questi si vanno sempre un po' più dilatando e via via che la prima con cui si era messa si mette con quest'altro allora lui fa tutte le freccine e Mesi cosa sa e lui cosa sa e lui come sta all'interno di una dimensione che vede una sorta di origine in Giannino Stoppani c'è una cosa su cui rifletterò ma in termini molto di omaggio al nostro venerato maestro Giovanni Maria Bertini molto problematici molto problematicistici perché non ho da dire una risposta definitiva a questo dubbio forte che mi prende ovvero se hai immaginato che la bambina orizzontando nella carta geografica degli affetti non sia però mai riuscita a prendere possesso della conoscenza della cartografia questo perché non gli interessa abbastanza e questo per ecco come sappiamo alla fine lei è oltre la cartografia degli adulti li ha già superati li sta aspettando tra altri amori altri dissidi altro malvivere in una zona che è più in là di quella dominabile leggendo il libro è roba da lasciare assolutamente sconvolti e allora lo prendo lo prendo sul serio un'altra volta intanto segnalo una cosa che nella culturologia degli italiani ha un'importanza secondo me enorme James nella cultura di sinistra era uno dei reietti decadente imbroglione borghese falso omosessuale gli editori riuniti erano la casa editrice di proprietà intera del partito comunista gli chiedono scusa fanno un romano fanno una raccolta di racconti molto bello molto ben fatto quasi a dire abbiamo superato quella triste fase in cui scrittori di questo genere borghesi e decadenti venivano molto molto sconsigliati al lettore operaio di antica e non dimenticata memoria le ombre del salotto e degli editori riuniti la cui sede era in via delle botteghe oscure come la sede centrale del pc questo è importantissimo perché questa modificazione aggiunge una possibilità formidabile alla lettura di Gems e qui ci sono due informazioni su come lavora estremamente interessanti tutte e due i racconti li hanno scelti ultra bene e sono racconti veramente fra le più belle raccolte e di una perfezione nella scelta veramente straordinaria mi fermo su due perché mi è venuta questa terrificante prosopopea di averlo finalmente capito di vedere come davvero lavorava cosa aveva in mente cosa gli stava accadendo mentre faceva questo tipo di prodotto questo tipo di ricerca mi soffermo su due racconti uno dalla raccolta si chiama l'ultimo dei Valeri l'altro si chiama Adina mi fermo non solo perché sono tutte e due di ambiente italiano ma anche perché evidentemente sull'ambiente italiano ha qualcosa da dirsi che dai italiani dovrebbe interessarci moltissimo l'ultimo dei Valeri si svolge nella campagna allora molto malmessa laziale torno a Roma e c'è uno dei tanti che hanno ereditato dalla romanità l'appellativo di Valerio e Valeri inteso come nome inteso come cognome in questo racconto viene a scoprire che i suoi oltre che dei soldi dei contadini delle messi buone da vendersi hanno lasciato anche una misteriosa villa di cui si dice che a scavare si potrebbe trovare qualche cosa e infatti chiamare i contadini e fa scavare appena la vedono nulla è cambiato siamo alle trasmissioni televisive e ai giornali di oggi che la Leda Colcigno ovviamente la riportano tutti con una gradazione molto rilevante nelle ermeneutiche io ne ho sentite sei e sono tutte differenti e faccio il tifo solo per una la giunone che salta fuori è di una beltà tale che incomincia subito un dissidio fra lui e sua diletta sposa che comincia a gridare o me o lei finché simpaticamente chiamando un altro gruppetto di contadini la risseppelliscono solo che lui non è stato leale fino in fondo ha stiancato una mano di giunone e la gelosa moglie viva della statua evidentemente morte riprende a essere gelosa della mano che vede a sicuro in salotto fare cose lette a proposito della capacità del cigno di mimare l'atto sessuale di cui oggi sono pieni giornali e ce ne vorrebbe uno tutti i giorni diremmo io e lui perché ci risparmino tante cretinate che si pavano già da ieri sullo spread su quelle robe lì e quindi io sono grato ad ogni reperimento per ragioni ovviamente culturali però è molto curioso che in 150 anni nulla sia cambiato c'è sempre mi fe stupefazione altrove paura di mistificazione paura di tradimento idea di sapere e non sapere si conclude così con l'adorazione della mano ma con la perpetua perdita della stupenda statua in Adina invece c'è una dimensione di colloquio che è anche piuttosto interessante linguisticamente eravamo rimasti a parlare di scrupa attorno al fuoco memori del motto de mortuis nil nisi bonum cioè ovviamente parlate meglio che potete dei morti risparmiate le cattiverie il nostro ospite tuttavia non aveva proferito parola con mio grande sorpresa poiché sapevo che era stato particolarmente intimo del nostro amico ma quando il gruppo si fu disperso io restai solo con lui ravvivò la fiamma mi offrì un altro sigaro fece sbuffare il suo per qualche istante con l'aria di chi guarda indietro negli anni e mi narrò questa storia 18 anni fa Scroppo e io eravamo insieme a Roma l'avevo conosciuto da poco mi era affezionato a lui come un giovane dolce gentile meditativo che spesso si affezionava ad un attivo e inriverente sarcasmo cosa succede in Adina che mentre percorrano serenamente la campagna romana vedono un giovanotto piuttosto male in arnese bel ragazzo ma addormentato evidentemente dalla stanchezza panni schifosissimi che tiene un sassone grosso così in mano i due sono degli Henry James quindi la sanno molto lunga e arrivati vicino uno dei due che è brutto da morire ma in compenso ricco ed elegantissimo e coltissimo gli dice se gli vuol vendere quel sasso è chiaro che l'altro un poco fiuta perché comprare un sasso è di tutti i giorni e il compagno che vuole il sasso il brutto ma ricchissimo fa una cosa molto abile cioè non gli offre che allora non sospettirebbe ma neanche poco perché allora non sarebbe tentato gli propone dieci dollari in oro e questo riprende le strade si dividono il compagno brutto e ricco si isola in albergo vicino a piazza Navona e dieci giorni dopo ricompare è un opale di nonio appartenuto a Tiberio e l'insegna imperiale di Tiberio c'è anche scritto vale come la loro strada a New York anzi ce ne vuole anche un'altra teatri compresi e fabbriche comprese loro starebbero anche zitti volentieri ma succede una cosa che il bruttissimo amico che ha il gioiellone si prende una cotta di una bellissima giovane americana che gravita lì e si propone lei senza i soldi e senza l'opale non l'avrebbe mai guardato ma gli dice sì gli dice di prepararsi al matrimonio un certo giorno vicino a Piazza Navona vestito benissimo compare il bellissimo ragazzo che dormiva il guaio è che i due si piacciono e così finisse con equità alla James nel senso che il brutto viene lasciato con il meraviglioso opale i due se ne viaggiano per andarsi a sposare verso i colli dal buonissimo vino bianco e la fine è molto bella perché nell'angolo fatale a cui a destra si va in trastevere e a sinistra c'è la sinagoga l'americano prende l'opale e lo butta nel tevere fine per tutti così così su cosa dobbiamo riflettere a proposito di questo scrittore di questo libro del suo mondo in relazione al nostro corso che parte da Giannino in una cosa che veramente io non sono riuscito a risolvere e quindi la propongo fenomenologicamente così come l'ho in mente io tanto per ora quanto gli altri che ho qua sostengono che Mesi è la versione femminile di A Clubberry Film non ce l'ho fatta però presento volentieri il caso riepilogando da un lato senza parenti senza dritte vere povero al punto che non sa nemmeno redimersi perché H non sa mangiare se non nelle pattumiere quando la vedova decide di adottarlo e gli propone cristalleria e fini raffinati lui rischia di morire di fame e spiega a Tom che non ce la farà mai a separarsi da quelle barbobietole mescolate al pesce marzo con quella patata sopra e un giuleppe di pistacchi tritati e acutamente Tom gli dice ma tu avevi promesso che da grande avresti fatto il bandito come me voglio ancora i banditi rapiscono le donne cosa ci stanno a fare se non rapiscono le donne e tu sei uno che non ha le buone maniere gozzovigli nella spazzatura conseguentemente io non potrò mai prenderti nella mia banda perché tutti dopo dicono ma la banda di Tom Sawyer che sporcazioni che brutta gente cioè come diceva mio babbo di me è un atto di gesuitismo che però gli consente di portarsi via verso la vedua e riprendere il processo educativo mi domando ma perché uno così a cui va attribuito anche il lungo viaggio del romanzo che ce l'ha protagonista quello dopo le avventure di Acleberry Film è il fratello ideale di Mesi che anche Mesi faccia un viaggio negli orrori della piccola e alta borghesia e che questo territorio terrificante sia il Mississippi della sociologia che voglia dire questo e che lui abbia questa cosa che lo porta allo strazio alla morte perché lui è un americano fino in fondo e ha scritto anche gli americani però è talmente innamorato dell'Europa che quando gli americani si rifiutano di entrare in guerra insieme agli europei alleati ovviamente dell'Inghilterra contro la Germania lui immediatamente si fa cittadino inglese abbandona la patria e dal dispiacere anche in pochi mesi muore questa doppia natura culturale questa tripla se pensiamo anche all'Italia il disagio può essere quello derivante dalla consapevolezza tragica dell'esclusione degli omosessuali della loro segregazione dall'autentica uccisione straziante che viene fatta di un genio come Oscar Wilde e un genio come Andersen Andersen soffre quel che c'è da soffrire e questa dimensione di sofferenza che sia lei a ispirare tutto quello che ci servirebbe e chi sono allora a questo punto i fantasmi e è un autore che crede ai fantasmi o è un autore che ai fantasmi non crede ma ce li mette per far spettacolo credo che ci abbia lasciato questi interrogativi interrogativi che sono in questo momento non solo attuali nella dimensione romanzesca ma molto attuali in quelli della dimensione sottopolitica perché di tutto si parla serate a parlare dello stesso Dazio e dell'identità degli europei guardate cosa invece ha fatto lui che di soldi non parla viaggio attraverso gli scavi Roma la romanità consapevolezza qual è quella che abbiamo adesso nulla la sua educato ad Harvard parla latino perfettamente non sbaglia una data né un personaggio né una sfumatura lui viaggia nella campagna romana come poteva viaggiare Tibullo assolutamente pronto a scrivere una elegia una cosa non gliela posso perdonare perché Mark Twain invece non ce l'ha non ho scritto contro di lui in questo senso dove sono gli indiani mai nemmeno lambiti mai e allora ho scritto un saggio contro Henry James perché io invece ho i soldatini che raffigurano i cipewas i siu gli apas dei navaios e così via e plaudo alla memoria del mio caro carissimo amico Sergio Bonelli che diceva così se uno lascia i navaios e poi va dai siu dalla Bonelli va via perché ci vuole nella carta geografica che è nel mio studio attenzione massima e io non consento errori non ci sono errori nei fiumi non ci sono errori nel calibro delle armi guai i vestiti non sto nemmeno a dirlo ma le tribù indiane sono tutte qua e sono rispettate come i granduchi europei da abbracciarlo non è mai venuto meno ora il seppellimento dell'indiano io credo che motivi quello che è il ribrezzo la paura la sensazione di scoramento che si ha ad affrontare il giro di vite tanto come bellissimo film quanto come splendida opera cos'è allora il giro di vite dove possiamo collocarlo accanto a ciò che sapeva Mesi credo che occorra fare questa riflessione se non ci capiamo se le proibizioni sono così terrificanti e inspiegabili l'apparizione che motivò il famoso terribile ritratto di Oscar Gual fatto da Toulouse Lautrec è qualche cosa di lancinante avevamo visto prima dell'arresto un signore piacevole divertente Lautrec dipinge una sorta di otre di lardo appisantito dallo squallore e l'ha voluto fare apposta per fare quello che ci direbbe con il linguaggio di oggi un quadro di denuncia ma con cosa sapeva Mesi e con giro di vite perché anche lì ci sono due bambini che cosa ci ha voluto dire e in questo senso gli innalzo consapevolmente un monumento che non sono autorizzato ad innalzargli dal portato critico storico che ho qui davanti però non mi sento di dargli meno di così potrebbe avere capito dei bambini della loro collocazione nella società del loro vivere accanto agli adulti più di altri suo fratello compreso e che sia proprio l'immaginazione dell'emosessuale averlo spinto a guardare in un certo modo i bambini e i bambini sono come Mesi e i bambini sono come i due protagonisti del giro di vite sono dubbi tremendi ancora adesso e non è un caso che la poesia di Woodward citata faccia riferimento a dei morti sono costretto a fargli un torto ma è inevitabile che sia così non è solo in questa scena letteraria c'è un omosessuale che scrive sette volumi e ne vede stampati una parte e non ne vede accolta nemmeno quella parte e gli ci vorrà moltissimo ma lui però è già morto perché questa opera guadagni lettura consenso accettazione è ovviamente marcel prun è il terzo omosessuale cuivo a queste operazioni anche se un pochino ma poco poco però più verso di noi allora facciamo un po' di teoresi alla garibaldina perché niente in realtà legittima quello che adesso sto per dire avendo però passato tanta parte della mia vita con i bambini a me scappandette certe cose che altrimenti lascierebbero inerti certi momenti certe componenti sono nel parere che mesi sappia che cosa sapeva mesi mesi sa moltissimo quanto sa e qui veniamo al corso che guarda caro è l'ultimo che farò ma allora è proprio come se lo sapessi prima e invece non lo sapevo perché la vera domanda è cosa c'entra Giannino è la questione diceva il mio amico Celati delle tribù ribelli peccato che non l'abbia mai scritto lo diceva perché stava tanto tempo nelle mie classi alle scuole Zambroni Orti allora in realtà non c'è pacificazione non c'è mai stato un armitizio neanche con te che fai il maestro e che li seduci perché leggi benissimo perché disegni benissimo perché gli dai dei rarissimi giornalini e gli spieghi la differenza tra Tex Villere Diabolic che non la so nemmeno io insomma cose di questo genere e i bambini però stai attento che non te li sei conquistati nemmeno tu e allora con la sensibilità del genio nel giro di vite e in cosa sapeva mesi va oltre il teledornale che qualcuno di voi vedrà questa sera perché i bambini che saranno lì presenti non hanno assolutamente niente a che fare sono paleo sono palafitticoli rispetto a quelli di 160 anni fa descritti da Gem il quale è un genio terrificante perché mesi e i due protagonisti del giro di vite noi li dobbiamo ancora prendere a misterioso modello del nostro modo di osservare l'infanzia il giro di vite e entrambi i bambini erano di una gentilezza di modi era il loro unico difetto che del resto non aveva mai reso Miles un goffo che li rendeva come dire che quasi impersonali certamente impossibili da punire erano come i cherubini dell'aneddoto che almeno moralmente non avevano niente che si potesse frustare ricordo specialmente nei riguardi di Miles provavo l'impressione che non avesse alcun passato non che ci si aspetti molto da un fanciuto ma c'era qualcosa in quel bambino di straordinariamente sensitivo eppure straordinariamente felice che più che ogni altra creatura della sua età che avessi conosciuto mi colpiva come qualcosa che si rinnovasse ogni mattino egli non aveva mai sofferto nemmeno per un istante presi questo come la prova diretta che non gli era mai stato inflitto un vero castigo se si fosse comportato male ne avrebbe subito la logica conseguenza e anch'io di riflesso me ne sarei accorta ne avrei trovato le tracce non avevo trovato nulla invece dunque era un angelo non parlava mai del collegio non accennò mai a un compagno o a un maestro e per parte mia ero troppo disgustata per alludervi naturalmente ero vittima di un incantesimo e le cose meravigliose che fin da allora me ne rendevo conto perfettamente tuttavia mi ci abbandonavo era un antidoto per ogni cruccio e di cruccio ne avevo parecchio in quei giorni infatti mi giungevano lettere preoccupanti da casa dove non tutto andava bene ma accanto ai miei bambini quale altra cosa al mondo contava era questa la domanda che mi rivolgevo durante i ritagli di tempo in cui mi appartavo dalla loro amabile grazia una domenica per proseguire il racconto piove tanto a lungo e talmente forte che non potemmo affluire in chiesa di conseguenza durante la giornata mi accordai con la signora Grose che se verso sera il tempo fosse migliorato saremmo andati insieme alla funzione vespertina fortunatamente la pioggia cessò e io mi preparai per la passeggiata fino al villaggio che attraverso il parco lungo la strada maestra richiedeva una ventina di minuti scendendo le scale per incontrarmi con la mia collega nell'atrio mi ricordai di un paio di guanti che avevo richiesto a qualche punto e l'avevo avuto con una pubblicità forse non edificante mentre i bambini prendevano il tè alla domenica eccezionalmente servito in quel gelido e pulito tempio di mogano e di ottone che era la sala da pranzo dei grandi e guanti li avevo lasciati là e andai a riprenderli la giornata era piuttosto grigia ma la luce del pomeriggio ancora indugiava e mi permise nel valcare la soglia non soltanto di riconoscere su una sedia vicino alla grande finestra chiuda ciò che cercavo ma anche di accorgermi di una persona che dall'altra parte esterna della finestra guardava nella stanza mi era bastato fare un passo la visione fu istantanea e fu perfettamente chiara la persona che guardava nella stanza era la stessa che mi era già apparsa mi riapparve cosa direi con maggiore nitirezza cosa sarebbe stata sempre impossibile ma con un'invicinanza che costituiva un passo avanti nei nostri rapporti e che al vederlo mi gelò il sangue era lo stesso era lo stesso lo vedevo per la prima volta dalla cintola in su poiché la finestra sebbene nella stanza da pranzo fosse al pian terreno era più alta della terrazza sulla quale egli si trovava il suo volto era premuto contro il vetro eppure l'effetto di questa visione risavvicinata strano a dirsi fu soltanto quella di farmi capire quanto intensa fosse la prima si trattenne solo per pochi secondi ma abbastanza per convincermi che anche lui mi aveva vista e riconosciuta e fu come se lo avessi guardato per anni e lo conoscessi da sempre accadde però qualcosa che non ero venuto alla volta precedente il suo sguardo che si fissava sul mio viso attraverso i vetri dell'altro lato della stanza era duro e scrutatore come la prima volta ma mi abbandonò per un attimo durante il quale lo seguì e lo vidi posarsi successivamente su diverse altre cose immediatamente un'altra certezza mi convolse non era venuto per me era venuto per qualcun altro la fenomenologia del fantasma fantasmi accanto ai bambini fantasmi probabilmente accanto a mesi fantasmi più feroci quelli di mesi che non quelli del giro di vite perché quelli del giro di vite si dileguano straziano mentre quelli di mesi la ammaestrano le danno la possibilità di mettersi contro gli adulti facciamo allora una serie di considerazioni utili al corso il quale ha un suo modo di dipanarsi è innegabile che Giannino Stoppani sia coevo a questa fantasmatizzazione ma allora ne è fuori e noi siamo portatori di una minore capacità di scrutare e metaforizzare l'infanzia non è così a mio avviso è un fratellino di questi sta bene accanto a mesi e ce lo dobbiamo ricordare perché perché quello che è molto degno di esplorazione e di insistenza sono le condizioni di una classe sociale la borghesia che sta molto tentennando è già quasi sterminata nella neonata Unione Sovietica patisse molto se è inglese nelle trincee di Francia patisse moltissimo nelle trincee di Francia se è francese al punto che è attuale all'idea di meritare le prime pagine spero che non vi sia sfuggito pensando al corso il dibattito Macron suoi avversari perché Macron ha fatto un certo atto ha voluto che si celebrasse il maresciallo Petain con gli altri celebrati per il centenario della vittoria cosa gli hanno in milioni risposto che non si poteva celebrare Petain perché Petain si arrive a Hitler con signori ebrei quelli del Velodever e per quattro anni governò con tutto il suo immenso prestigio una zona molto dubbiosa di territorio più alleata che occupata dai nazisti quale celebriamo l'eroico vendicatore di Verdun o il genuflesso a Hitler ma crediamo davvero che la storia non sia sempre così e che rapporto ha quella dimensione con questo è perché quei giovanissimi qui sono diventati fantasmi tutti quei morti ci sono anche qui ma sono spettri e sono spettri perché lui che non ha visto la fine della guerra è morto di malattia prima li aveva già immaginati quindi siamo di fronte a un grandissimo del quale non si smette di notare la incredibile grandezza e io credo che dagli la parola in relazione a questa sua specificità perduta è ad un tempo ritrovata cosa sono infatti i suoi fantasmi sono identiche alle fughe misteriose con la mano nera di Giannino Stoppani sono assolutamente identiche alla sparizione totale di Franti nel cuore sono assolutamente identiche al suicidio in un parco torinese di Emilio Salgari che ha visto i suoi fantasmi anche lui nel senso che non è stato creduto non gli è stato detto che il corsaro nero c'era è stato umiliato dagli storici della letteratura per infanzia i miei amabili colleghi scrive male e pasticcia moltissimo con le informazioni e i dati storici inoltre è bene dirlo di seduca e noi abbiamo tutta questa falsariga e questa falsariga c'è poco da fare ma quello però se lo dimenticano tutti è il fantasma che compare in una stalla di dovia vicino a Predappio mentre un bambino di 11 anni nato nel 1883 quindi saremo nel 94 ascolta un esponente socialista però mandriano anche lui calli alemano anche lui che legge i miserabili questo bambino si chiama come l'eroico capo della rivoluzione messicana si chiama Benito Benito Cuaraz che aveva finalmente dico io sono romagnolo anch'io come origini fatto fucilare un Asburgo si sia parte ci vogliono grandi abbondanze di plotoni di esecuzione verso gli Asburgo cosa capisse dei miserabili capisse che certamente c'è un'ingiustizia perpetrata dalla società verso un povero uomo che riuva un pezzo di pane per nutrire i figli di sua sorella e si fa 19 anni di galera per quel pezzo di pane e com'è che per vendicare il povero uomo che ruba il pane fonda i fassi e riempie di camice nere i camion bielle qui c'entra più la letteratura per l'infanzia che non la storia e non la sociologia non può far altro che così perché loro sono i Giannino Stoppani cresciuti lui non ha altro non ha dei pacifici ragazzini quelli li ha cacciati via Giannino calci nel sedere rubandogli i penini sporcandogli i quaderni tutto questo c'è anche qui dentro una domenica lo dico per proseguire il racconto piove tanto a lungo e tanto forte che non potemmo affluire in chiesa di conseguenza durante la giornata mi accordai con la signora Gosse che se verso sera il tempo fosse migliorato saremmo andati insieme alla funzione vespertina fortunatamente la pioggia cessò e io mi preparai per la passeggiata fino al villaggio che attraverso il parco e lungo la strada maestra richiedeva una ventina di minuti scendendo le scale per incontrarmi con la mia collega nell'altro mi ricordai di un paio di guanti che avevano richiesto qualche punto e l'avevano avuto con una pubblicità forse non modificante mentre i bambini prendevano il tè prima visione ce ne siamo occupati prima la sua mano si strinse seconda visione che cos'era? era un uomo stranissimo guardava dentro un uomo stranissimo un uomo stranissimo non ne ho la minima idea in vano la signora Grose si guardò intorno ma dove è andato? non lo so l'avevate già visto? si l'avevamo già visto una volta sulla torre vecchia non poter far altro che guardarmi più fisso volete dire che quello è uno sconosciuto? assolutamente e non me ne avete detto nulla? non per certe ragioni ma adesso che avete indovinato voi gli occhi ratondi della signora Grose affrontarono la cosa io non ho indovinato disse molto tranquillamente come lo potrei se voi non sapete cosa pensarne? non lo so nella maniera più assoluta lo avete visto soltanto sulla torre? e in questo punto un attimo fa la signora Grossi guardò di nuovo intorno cosa fa sulla torre? se ne sta lassù fissa riflette un momento era un signore? mi resi conto che non avevo bisogno di pensarci su no mi guardava con crescente stupore no ed è il nostro villaggio? è qualcuno di questo posto? no ve l'ho detto e mise un leggero sospiro di sollievo stranamente sembrava andar meglio ma fu solo una questione di attimo ma allora se non è un signore che cos'è? è un orrore un orrore è è Dio mi aiuti se so che cos'è durante quel periodo mi dimostrarono un attaccamento esorbitante e anormale me lo spiegavo dicendomi che dopotutto non era che la graziosa risposta di bambini continuamente riveriti e festeggiati l'omaggio di cui erano così prodotti ebbe in realtà un eccellente affetto sui miei nervi come se non mi fossi mai presa la briga per così dire di sorprenderli con le mani nel sacco penso non avessero mai desiderato come ora di fare tante cose per la loro povera protettrice cioè per me voglio dire benché si applicassero sempre più e sempre meglio allo studio cosa che naturalmente mi procurava un enorme piacere distrarla divertirla prepararle sorprese leggerle qualcosa raccontarle storie rappresentarle sierare saltarle ad osso mascherate da animali e da personaggi storici soprattutto stupirla con pezzi che avevano segretamente imparato a memoria e potevano anche recitare all'infinito non riuscirei mai nemmeno se mi abbandonassi completamente all'onda dei ricordi a descrivere sino in fondo la stupenda segreta attenzione tenuta sotto una sorveglianza anche più segreta che dedicava in quel momento alle loro giornate così piene mi aveva dimostrato sin da principio un'inclinazione per ogni cosa una disposizione a imparare tutto che dietro uno stimolo nuovo dava splendidi risultati Dio come siete cambiata esclamò la mia amica non sono cambiata spiego le cose come stanno semplicemente potete star sicuro che quei quattro si incontrano di continuo in una di queste ultime notte forse sono stato con uno con l'altro dei bambini l'avreste capito chiaramente più osservato atteso più mi sono resa conto che in mancanza da altre prove sarebbe stato sufficiente il sistematico silenzio di ciascuno di loro ma nemmeno a fior di labbra avrò mai formulato una semplice allusione a quei loro amici nemmai sa mai accennato alla sua fine della presenza in collegio sì possiamo stare seduto a guardarlo loro possono adarcela bere finché vogliono ma perfino quando fingono di essere perduti nelle loro fiabe essi sono sprofondati nella visione dei morti che per loro ritornano e si va avanti a definire questa unicità che ci ha voluto consegnare questo straordinario scrittore difficile in qualche modo inquadrarlo davvero forse la terrificante sfacciataggine dei suoi interpreti poveri cioè di questi che lo mettono siaguratamente dentro i ribracci della Nerbini o dentro il primo mensile horror perché è del settanta questo ero coinvolto anch'io è tutto da studiare noi lo studieremo maggiormente nel dipanarsi delle lezioni perché lui tornerà di lui non se ne può fare a meno ci saranno continue allusioni al suo esserci e al suo presentarsi così la guerra la fine del suo operare l'incomprensione la difficoltà l'omosessualità da condividere con Anderson da condividere con Oscar Wilde ne fanno tre momenti della storia dell'immaginario europeo che sono attualissimi parliamo troppo spesso di Darsi e non del fatto che un danese e un inglese siano così perfettamente all'unisono e un francese ne dipinga terribilmente uno e tutta questa memoria stia lì con una sofferenza che non è di molto cambiata ogni messaggio televisivo è tremendamente vicino a Mesi ogni tragedia e ce n'è tutti i giorni che riguarda l'infanzia pone sempre la stessa domanda che cosa sapeva Mesi e ci lasciamo prima dell'interessantissimo corredo con questa domanda ci sono adulti che hanno tentato davvero di cercare di capire che cosa sapeva Mesi due sono qui senz'altro ma sono Pascoli e Wadsworth quando ci parla nell'aquilone nel sublime aquilone del compagno morto o morto giovinetto quando gli dice terrificantemente beato te lui si allea a questi e infatti pone nel suo quaderno di traduzioni niente meno che Wadsworth l'infanzia mi sembra che dopo certi periodi in cui con questi strumenti la si studiava oggi sia da questo punto di vista del tutto abbandonato mi ricordo quando prendevo Linus lo portavo in classe e cercavamo di dipanare le cose cattive e quelle meno cattive dando poi un avviso a Orest del Buono il direttore non sei piaciuto alla mia quinta vedremo un'altra puntata con la presenza di Orest del Buono con l'idea che avrebbe voluto magari di tasca sua perché era abbiente fare un Linus per bambini ma diceva dove sono quelli che lo farebbero sono problemi su cui ritorneremo attenzione al particolarissimo prodotto che esattamente l'Anna lo ha preso da questa stessa zona si tratta dei libri che avevano in mano questi bambini delle illustrazioni che hanno visto loro e così noi possiamo vedere che c'è a partire da questa stupenda copertina un lindore un porsi della dimensione infanzia si parlava nel 68 dell'infanzia come nuova classe sociale ero d'accordo e sono ancora d'accordo un altrove che si definiva come classe sociale autonoma è così che nei lunghi anni di maestro ho davvero visto bambini e bambine e questi illustratori e queste illustratrici erano di una abilità talmente clamorosa che qui non centra né la composizione che è mirabile perché la prima di schiena davanti da lustro indica la prospettiva apre una v una forcella che va fino al pezzo di sedia in basso a sinistra e all'ultimo fiore in testa la ragazzina in piedi è questo il luogo dove compaiono i fantasmi è questo il luogo dove mesi parla e non parla imbroglia dice bugie deride scuote le coscienze ma le spegne anche è qui dove la governante non sa vedere i fantasmi che i suoi bambini invece vedono e stupende come sono c'è una ragione pedagogica cioè l'infanzia vittoriana e quella del suo figliuolo successore che veniva chiamato Teddy tanto è vero che negli anni sessanta comparvero i Teddy Boys e Edward Inghilterra aveva una particolare disposizione a elargire fondi e rassicurazioni e aiuti nei limiti di una politica dove conta il Parlamento ma i sovrani governano anche indirizzi verso una cautela dell'infanzia che gli altri non avevano siccome questo pittoricamente è bellissimo perché c'è una gamma di grigi e perlaceo ha questo pezzo di legno fullato destro che sa di segantini ma secondo me un po' meglio di segantini ha questo vibrare di tinte assolutamente non facili da realizzare anzi molto autonome anzi molto diverse da quelle correnti e in più ha questa costruzione che non assomiglia per niente alle classiche costruzioni quindi un gioiello assoluto che documenta un tipo di attenzione colta raffinata e partecipe verso l'infanzia dell'ora stupendo anche questo è perfettamente in linea con la dimensione James perché parimo piano con fondo della sedia dietro di una poltroncina di legno bianco saetta a curva degli splendidi utensili domestici fiori e solo laggiù presenza infantile con una radicale autonomia del gruppo una sottolineatura al meraviglioso contorno questi lavoravano ancora a pennino non avevano le macchine di oggi che rendono tutto uguale tutto informe tutto fordista perché è ford quello che ci abituò per primo avendo le maledizioni di Gramsci a una uniformità del produrre e quindi del prodotto questo è un capolavoro di una illustrazione che ha un'altissima significanza pedagogica e continuano questi geometrici modi di intendere dove c'è un messaggio pedagogico di tantissima forte rilevanza che stiano da soli che la narseri non venga disturbata che ci sia separatezza che non vengano condizionati dagli adulti par proprio che l'autore abbia letto cosa sapeva mesi perché gli adulti accanto a mesi sono uno più vergognoso triviale russianesco falso dell'altro e per fortuna della infanzia sono tutti così quindi si annullano a vicenda splendido anche il ragionamento sociale che mostra questa distanza questa differenza questo guardare altrove questo non aver bisogno di nessuno che deve essere il motivo di fondo dei vari libri delle varie novelle di Henry James che si pongono questo problema ma loro ci vogliono o no ma loro ci sopporterebbero se potessero evitarci oppure no ma la loro distanza è misurabile oppure è smisurata e allora forse il problema è forse qui che avendo letto questi illustri critici alcuni mi sono anche stati colleghi e li rispetto due volte che dicono che c'è una profonda consonanza tra Huck Film e Mesi che sia questa il trovarsi da soli mentre l'adultità se la sgavagna da un'altra parte questa in questo prezioso antico libro è la duchessa committente è lei che l'ha voluto incoraggiato e pagato con qualche cosa che effettivamente andrebbe studiato con criteri differenti da quelli utilizzati dai grandi studiosi che hanno ragionato su Mesi e il suo mondo perché questa è una pagina differente si insiste in questa dimensione totalmente legata all'interior perché per una serie di ragioni che si dovrebbero scoprire ragionando esplorando i fantasmi hanno bisogno di case di un certo tipo di case e allora bisogna avere un certo arredo un certo riscaldamento le stoviglie molto ben lucidate e così via quel che resta del giorno il magico film che racconta tutto sul morire il decadere e il morire di quell'aristocrazia inglese infatti il romanzo l'ha poi scritto in giapponese splendida grandissima invidia perché disegno anch'io e fare una china di questo genere è terribilmente difficile bisogna avere una mano portentosa bisogna documentarsi con schissi perché lì non c'è un errore né nelle scarpe della donna in primo piano né nel vestito della bambina men che mai nella guardia campestre che è l'epicentro del narrativo di questa situazione e anche le case porte in fondo che nei romanzi di James vengono sempre lodate perché qualcuno le ha conservate con spesa e fatica proprio così c'è una dimensione leggermente più esopiana e quindi più magica e c'è una bravura pittorica in quelle pietre nei legni in primo piano nello stabilire tre prospettive anziché una nel dare un senso di vita a questa magia e dare una natura darwiniana fortissima con la diligenza che lo stesso Darwin disegnatore metteva nei suoi elementi però se ci spostiamo in basso a sinistra ridiventa fiaba riprende l'epos del fiabesco britannico e quindi tutto sta magicamente insieme pur nella sommativa delle differenze e si può anche sorridere ho notato che nei fumetti delle testate più recenti e mi ha fatto moltissimo piacere naturalmente si va a riprendere in zona Bonelli questo spazio illustrativo eduardiano dove si mescola la integerrima vitalità realistica del tronco alla totale invenzione tipo signore degli anelli di queste creature si deve fare sempre così è una regola se vuoi rendere il drago drago l'albero deve essere degno di un'esposizione botanica è una regola che presso la quale non si può sopracedere ma questo è anche un capolavoro di bellezza grafica e non si può dimenticare questo altrove che invece ritorna sempre assolutamente il colonialista che torna a casa imbiancato non sa appoggiare l'elmo non sa più cosa mangiare perché è abituato a vivere come quelli che ha incontrato nella savana e la pietrosità senza acqua e la bellezza muscolare dei neri e così via anche qui la presenza con presenza siamo a contatto con la cultura e con la dimensione romantica degli inglesi volge alla grandezza è una tavola bellissima ne diventa diversa quando c'è un azzardo ai colori perché allora vengono in aiuto i pre-Raffaelliti alcuni dei quali sono ancora vivi ancora che vecchi e allora l'illustrazione da loro ricava eleganze sintesi tormento di carne e di affetti perché è solo grande illustrazione colta non gioca al ribasso come spesso oggi si fa inutile dire che l'abilità illustrativa richiesta da questa tavola è poterosa tutte le luci sono di grandissimo livello tutto l'insieme diventa epos va in una dimensione di recupero fantasmatico proprio perché la bellezza narrativa è talmente consistente da non muoversi da quello che a partire da mesi abbiamo evocato che cosa li faceva essere così attenti così geniali così tecnici così molto chiusi nel loro perimetro perché purtroppo gli illustrazioni italiani di questa epoca non hanno queste capacità tecniche è anche bisogna dirlo un'industria libraria tipografica editoriale critica conoscitiva che bisogna pensare come esistente per forza perché altrimenti non avrebbe potuto supportare prodotti di questa finezza bellezza eleganza sapienza narratologica è sempre quell'altra sponda che deve tornare costantemente e che ritorna anche in James in una misura tutta sua James si sente che non vuole parlarci degli indiani massacrati quindi gli ufficiali sono sempre tornati a casa le oasi sono sempre raccontati da qualcuno che è in congedo o in pensione si prende insomma le distanze da questa zona che invece è amatissima dalla letteratura per l'infanzia inglese che lo si vede anche in questa pagina non ha il fervore salgariano ha piuttosto un afflato documentativo un movimento antropologico culturale perché se lo possono permettere visto che studiano scrivono mandano reportage si comportano in una maniera molto più colta di quella degli altri che colonizzano ma per esempio come i belgi sterminando e basta ovviamente la dimensione che ha tutti quei nomi immaginabili possibili ma è sempre sola che si chiama Liberty oppure si chiama Art Nouveau oppure si chiama Jugendstil a seconda dei paesi perché tutti aderiranno è il pandan della raffigurazione documentativa che abbiamo visto così adatta a occuparsi di mesi le fantasie le fantasie di mesi sono anche di questo tipo perché la dimensione che presuppone il fantasma è l'eleganza hanno uno strano gusto i fantasmi per cui nelle porcilaie ci vanno molto infrequentemente e qui ritroviamo l'anima dell'Europa quando l'ebbe perché dai famosi magazzini inglesi che si chiamavano Liberty si sese in Franza a chiamarsi a Nouveau noi riprendemmo il nome Liberty e copiamo anche i magazzini salendo verso l'Austria si chiamò Jugendstil l'Europa si è fatta di questi sogni unitari che andrebbero il più possibile ritrovati invece si studiano ancora oggi pochissimo ci furono bellissime mostre sullo Jugendstil a Torino alla fine degli anni 70 c'è stato qualcosa di recente in Romagna in varie edizioni ma è male lasciarlo così abbandonato perché è immenso insegna moltissime cose ed è viva Dio unitario unitarissimo c'è anche la dimensione drammatico lirica e questa andrebbe ovviamente benissimo in quel che sapeva Mesi o nella storia dei fantasmi o comunque sia in qualunque dimensione conoscitiva inerisca a James perché è il volto di lei che conta moltissimo bello non lieto teso più adatto a una dimensione guerriera che non a una casalinga cioè esattamente come nelle pagine di James questo è semplicemente un capolavoro assoluto perché chi sa fare una tempera così non ha bisogno di nessun commento non è un pirata come potrebbe sembrare è un rivoluzionario francese perché si capisce che oltre gli infami d'occoli porta i culott da cui i sans culotte e tutto quello che venne allora c'è da sottolineare che nella bellezza tecnica che è poderosa va da quei sassi alle gambette della ragazzina va dalla faccia che lo fa sembrare pirata ma la coccarda ricorda che è un rivoluzionario poi là dietro col doveroso doveroso cilindro c'è anche un girondino mentre ricompare il cappello da giacobino sulla sinistra è inutile però dire di queste cose se non si nota il pennellato che è degno di un grandissimo pittore è uno talmente sapiente che ha saltato i barocchi ed è andato direttamente alla nostro rinascimento arguendo che era da lì che si poteva imparare cos'era davvero il popolo perché Paolo Uccello lo sapeva e ci sono queste dimensioni più onirico futuristiche nel senso che riguardano noi questa è potrebbe usarla la Bonelli come pagina tanto è aggraziata ma nello stesso tempo viva di cinema viva di forza di racconto eclatante nella dimensione narrativa e c'è anche non si può altro che inchinarsi con gratitudine il fatto che diano sostanza al costume tutti sono vestiti come appaiono negli apparati fotografici che già c'erano e anche solo il particolare della differenziazione di classe tra i due sulla destra e quello che sta solo sulla sinistra farebbe pensare all'importanza estrema che ha questo tesoro editoriale dato da queste inutrazioni e questa potrebbe essere mesi non posso far altro che immaginarmela comunque così e rimandare quindi a una civiltà grafica che è a livello di un'immensa grandezza come quella di James perché questa è è la sua mesi il sorrisino l'allusione l'indeterminatezza causa delle calze nere del dare davvero un'età l'anterior con la governante e così via con la tragedia dell'infanzia di Alberto Savinio che qui ricompare e che forse sapiente informato com'era avrà preso questa illustrazione inglese a modello o anche questa dove la luminosità vale un enorme discorso e dove l'interiore ha un ulteriore dettaglio in più potrebbe non vedere i fantasmi come mesi proprio perché ha questa situazione domestica così differente da lodare all'infinito le pezze ai ginocchi del proletario vero pensando che il capitale Karl Marx l'ha scritto a cento metri di lì grazie per l'attenzione per l'anima